bene buonasera cari fratelli e sorelle in cristo ci vediamo come ogni mercoledì dalle 19 alle 20 nella nostra rubica alla luce della gospa c'è proprio come sottotivole o l'urgenza della conversione prima di entrare in questo tema offriamo allo spirito santo che possa illuminare dare voce alle mie parole e poter far accogliere nei cuori per per l'appunto l'urgenza di questa conversione nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen vieni santo spirito vieni per maria bene allora iniziamo subito già degli amici si sono messi in collegamento per cui vi auguro una buona trasmissione una buona oretta passata insieme a me questa sera non c'è angela perché impegnata con per il popolo la famiglia con i vari appuntamenti e vari contatti che sta muovendo sempre sul territorio sempre più assiduamente perché ci stiamo sempre preparando di più per diciamo l'obiettivo che dobbiamo raggiungere con le politiche poi ci sono le amministrative ci sono tanti appuntamenti che si rincorrono entriamo dunque subito nel contesto della della mamma perché è urgente l'urgenza della conversione e forte è forte perché come il nostro presidente ha avuto questa bellissima intuizione no questo libro che ha scritto che o capiamo o moriamo e qua ci dà proprio degli spunti di riflessione nell'attualità di oggi no di quello che sta avvenendo in questo contesto invece maria a me giugorie ci dice anche lei che o capiamo o moriamo ma moriamo nell'anima prima di tutto e se non riusciamo a capire perché noi con la nostra mente non possiamo capire possiamo capire bene alla luce della presenza dello spirito santo e per mezzo di maria che il tempio dello spirito santo ci può far vedere e ci può aiutare a capire che o capiamo o moriamo anche a livello spirituale anzi soprattutto che diciamo che il nostro bene maggiore non è qui su questa terra dove per i più robusti sono 70 80 90 anni come dice la scrittura ma è tutto veramente un soffio un attimo di passaggio allora oggi vi voglio dire vi voglio leggere un po di messaggi strappolati per quanto riguarda l'urgenza della conversione proprio il 16 novembre del 1981 la mamma ha dato il primo messaggio che ci ha voluto avvisare di cosa stava succedendo per cui dice in questo messaggio straordinario satana tenta di imporvi il suo potere non lo permettete rimanete saldi nella fede digiunate e pregate io sarò sempre accanto a voi a ogni vostro passo per cui già subito all'inizio dei tempi dei messaggi sappiamo che le apparizioni sono iniziate il 25 giugno del 1981 e qua ci troviamo a metà novembre dello stesso anno per cui sono circa quattro mesi dopo ci sta dando questo però siccome noi logicamente non è che capiamo subito molto bene cosa è successo sei mesi dopo il 14 aprile del 1982 ci dà una immagine completa di quello che sta facendo il demonio il divisore colui il menzogniere l'omicida falso menzogniere per eccellenza cioè colui che cambia le cose che trasforma che dice una parola mette delle situazioni trasforma il bene in male il male in bene anzi il male in bene non lo trasforma mai il demonio ma ti fa credere che tutto è bene per arrivare a farti perdere l'anima a farti perdere l'amore di dio allora in questo messaggio del 14 aprile del 1982 la madonna dice ai ragazzi dovete sapere che satana esiste egli un giorno si è presentato davanti al trono di dio e ha chiesto il permesso di tentare la chiesa per un certo periodo con l'intenzione di distruggerla dio ha permesso a satana di mettere la chiesa alla prova per un secolo ma aggiunto non la distruggerai questo secolo in cui vivete è sotto il potere di satana ma quando saranno realizzati i segreti che vi sono stati affidati il suo potere verrà distrutto già ora egli comincia a perdere il suo potere e perciò è diventato ancora più aggressivo distrugge i matrimoni solleva discordie anche tra le anime consacrate causa ossessioni provoca omicidi proteggetevi dunque con il digiuno e la preghiera soprattutto con la preghiera comunitaria portate addosso portate addosso oggetti benedette e poneteli anche nelle vostre casi e riprendete l'uso dell'acqua benedetta ecco qua ci ha fatto capire un attimino perché la mamma continua a scendere da 36 anni questo è il fulco centrale la mamma viene a difenderci con il mandato di dio quanti messaggi la madonna ha dato ringraziate dio l'onnipotente che mi permette di mi permette di essere ancora in mezzo a voi e se andiamo proprio a vedere la scrittura il vangelo di oggi leggo solo la prima parte dal vangelo secondo luca in quel tempo gesù chiamò a 6 12 e diede loro il potere e autorità su tutti i demoni e di curare le malattie e li mandò ad annunziare il regno di dio e a guarire gli infermi ecco io sono sicuro che oltre che gli dodici anche la madonna aveva questo potere già a suo tempo ma lei come umile ancella colei che accoglieva nel suo cuore tutte le cose e le meditava nel silenzio del suo cuore è rimasta lì a guardare a vedere cosa il figlio faceva adesso sicuramente il figlio che è dio padre dio figlio e dio spirito santo manda la madre manda la madre in soccorso ai suoi figli io vi saluto sempre con fratelli e sorelle in cristo perché è così che ci ha detto gesù dalla croce quando gesù dalla croce ha detto alla madre ecco tuo figlio verso giovanni verso l'amato e quando a giovanni gli ha detto ecco tua madre e giovanni l'ha prese con sé nella sua casa allora anche noi dobbiamo fare questo passaggio per cui prendendo la mamma e mettendola nella nostra casa noi riusciamo praticamente a andare in quel combattimento che è un combattimento non da terreno ma è un combattimento spirituale allora ad esempio vi volevo dire che ci sono stati dati circa sul sul demonio circa una 100 messaggi 97 messaggi questi 97 messaggi io ad esempio vi voglio leggere subito quello che il è uno dei più importanti perché perché Maria il primo gennaio del 2001 ci dice quello che si sta muovendo più velocemente quello che sta avvenendo e allora dobbiamo ricorrere ai ripari che la preghiera i ripari sempre che la mamma ci invita e la preghiera sapete sono circa 490 i messaggi sulla preghiera sono circa 460 i messaggi sulla conversione in quel messaggio del primo gennaio del 2001 la mamma ha detto alla Maria la veggente Maria questa sera in modo speciale adesso in cui Satana è libero dalle catene io vi invito a consacrarvi al mio cuore e al cuore di mio figlio in modo speciale adesso cari figli miei vi invito ad essermi vicino io vi benedico tutti con la mia benedizione materna andate in pace cari figli miei vediamo che questo messaggio è di una grandezza unica perché perché ci dice e ci avverte proprio che in questo momento in questo momento il primo gennaio del 2001 ci ha avvisato che si è liberato dalle catene allora noi vediamo un attimino cosa succede velocemente la distruzione delle famiglie che è il primo obiettivo del demonio una volta che ha distrutto la famiglia ha distrutto la procreazione ha distrutto quello che Dio aveva creato fin dall'inizio ma siccome non le basta continua anzi ormai è tempo come abbiamo sentito nel messaggio iniziale che vi ho detto che Satana ha chiesto di tentare l'umanità e la chiesa per un secolo Dio le ha dato questa possibilità e vediamo in questo secolo abbiamo visto passare la prima guerra abbiamo visto passare le apparizioni di Lourdes con San Bernadette che diceva pregate il rosario abbiamo visto passare la seconda guerra con le apparizioni di Fatima e stiamo vivendo in questo anno il centenario delle apparizioni di Fatima quando a Suor Lucia diceva ci sono molte anime che vanno all'inferno perché non c'è nessuno più che si sacrifica per loro e noi siamo in questo momento la Madonna Medjugorje ha detto io concluderò a Medjugorje quello che ho iniziato a Fatima e allora vediamo un attimino il contesto del messaggio del 2001 è scatenato e libero dalle catene abbiamo praticamente nel mondo se noi guardiamo e usciamo dal piccolo orizzonto del nostro orticello di casa noi stiamo vedendo che ci sono guerre in maggior paranza parte del globo nella parte diciamo meridionale nel Medio Oriente vediamo cosa avviene vediamo la possibilità e siamo lì sulla breccia di scatenarsi una guerra nucleare come ha detto bene la terza guerra mondiale sarà ancora la terza guerra sarà combattuta così ma la quarta sicuramente con i bastoni e con le clave perché al nucleare o a una bomba all'idrogeno non c'è ritorno c'è veramente una tragedia per l'umanità e in un messaggio che la Madonna ha dato vediamo se riesco a trovarlo che dovrebbe essere vediamo un attimo no allora ci abbiamo ok scusatemi sto cercando proprio eccolo qua nel 25 gennaio del 91 dice cari figli oggi come mai vi invito alla preghiera che la vostra preghiera sia preghiera per la pace satana è forte e desidera distruggere non solo la vita umana ma anche la natura e il pianeta su cui vivete perciò cari figli pregate per essere protetti attraverso la preghiera con la benedizione della pace di Dio Dio mi ha mandato tra voi per aiutarvi se volete afferrate il rosario già solo il rosario può fare miracoli nel mondo e nella vostra vita io vi benedico e rimango con voi finché Dio lo vuole grazie perché non tradirete la mia presenza qui grazie perché la vostra risposta serve al bene e alla pace grazie per aver risposto alla mia chiamata rendiamoci conto di quanto questo messaggio che ci indica che non vuole distruggere solo le nostre vite ma vuole distruggere la natura e il pianeta in cui viviamo e ci dà la soluzione il rosario la preghiera il digiuno la lettura della saga scrittura la confessione e la santa messa con queste armi noi sconfiggiamo Satana noi entriamo nella luce dello Spirito Santo noi ci facciamo accompagnare per mezzo delle mani di Maria sul cammino della santità e possiamo essere luce in mezzo alle tenebre e il messaggio che mi ha colpito di questo 25 gennaio del 91 sono le sue tre volte che dice grazie grazie perché non tradirete la mia presenza qui grazie perché la vostra risposta serve al bene e alla pace grazie perché avete risposto alla mia chiamata se noi allora entriamo un attimino a pensare a pensare come è possibile che la madre di Dio scenda sulla terra e ci viene a ringraziare perché la stiamo aiutando lei dice senza di voi io non posso realizzare il mio piano allora come vi ho detto perché è qua presente catastrofi ci sono guerre in tutto il globo siamo vicino a una guerra nucleare non ci interessa ne abbiamo già passata una con la crisi di Cuba e chissà quante altre che non sappiamo ci sono traffichi traffici di organi bambini che vengono sventrati che vengono rubati i reni gli organi per essere venduti nelle cliniche in Svizzera e essere trapiantati a gente che compra con mammona con denaro ci sono c'è il mercato più grosso di pedofilia e di prostituzione minorile qui Mario su questo libro Capiamo Moriamo ha dato tantissimi dati per quello che io l'ho letto in un'ora e mezza in un fiato perché è veramente un libro dove ci sono tante di quei dati e tante di quelle informazioni che è solamente una mente veramente fine di un giornalista che vuole fare il giornalista veramente perché oggi purtroppo la classe è anche dei giornalisti come ha detto Mario stamattina non dei giornalisti ma della società malata che stiamo vivendo qual è la società malata? la società malata è quella che ha messo Dio fuori dalla porta per cui mancanza di etica mancanza di morale per cui vediamo cosa? che tutto si collude per cui tutto quanto adesso abbiamo quella notizia dei dottorati dei professori delle università che abbiamo visto quello scandalo ma è una punta di iceberg la ministra Fedeli dice non bisogna non è non è tutto così è solamente una parte no è peggio di quello che pensiamo abbiamo visto l'altra notizia delle andrine dell'andrangheta con la collusione del sindaco di Seregno di Forza Italia ma va bene e ci sono i giornalisti di cui collusi la RAI noi che paghiamo il canone tramite che meno male sono riusciti a risolvere l'evasione del canone inserendoti il canone nella bolletta della luce per cui se non paghi il canone ti tagliano la luce allora queste sono e noi dobbiamo ascoltare questi programmi che io grazie a Dio noi abbiamo magari guardiamo qualche film perché ormai è veramente l'immondizia guardate ad esempio ieri sul report a RAI3 c'è stato un bellissimo servizio sulla massoneria ma come dice Danilo Leonardi chissà quanto pagherà adesso questo nuovo conduttore che ha fatto questa inchiesta perché la massoneria è molto forte molto dentro come diceva Mario stamattina prendo spunto dalle sue parole perché è informato ed ha informazioni vere quanti massoni con 416 bis per cui appartenenza alla mafia sono con il grado di massonico alto in maniera da intaccare la società intaccare le istituzioni allora questo è perché noi abbiamo messo Dio fuori dalla porta e lo vediamo anche nei nostri politici quando un presidente del consiglio nella passata legislatura il presidente renzi dice che lui ha giurato sulla costituzione e non sul vangelo e si reputa un cattolico a me viene da ridere anzi mi viene da piangere il problema è che politicamente corretto ormai la situazione ma sappiamo benissimo come è arrivato lì per via dei poteri forti per via dei vari passaggi come ci spiega il nostro generale da dopo che è andata a trovare la Clinton in America qualcosa è successo allora adesso visto che sto andando un attimino così a ruota libera vorrei salutare qualche amico che si è messo per cui in contatto ecco io vorrei salutare Anna Del Guerra Giuseppe Focone ringrazio l'Emanuela che si è inserita con noi Michele Lipari Fabio Pecorari Francesca Lodola Niccolò Marino ciao Niccolò buonasera a te grande Anna Del Guerra per cui vi chiedo di fare un condividete se vi piace se potete un like così almeno questa trasmissione la diffondiamo perché dovete sapere che è vero che noi qua adesso stiamo parlando alla luce della gospa però questo è il palinsesto diciamo il popolo della famiglia tv è uno dei mezzi uno degli strumenti che ha il popolo della famiglia per poter diffondere il messaggio per poter informare le persone allora più persone noi riusciamo a coinvolgere in questa visione in questa e in tutto il palinsesto come vi ho detto da lunedì al sabato c'è il nostro presidente Mario Adinolfi che fa stampa e vangelo la lettura del vangelo senza tanti commenti com'è il vangelo dandogli una bella nota poetica o di visione proprio ti spiega ma non ti fa una lezione di teologia e poi ti approfondisce le notizie che non passano negli altri quotidiani per cui anche lì noi abbiamo come mezzo di informazione la croce che è il giornale online direttore Mario Adinolfi che è un organo ufficiale del movimento del popolo e la famiglia e pdf tv popolo e la famiglia tv via facebook dove praticamente ci sono molti dirigenti del popolo e la famiglia ci sono circa 20 25 palinsesti e diamo tante informazioni per cui se potete vi chiedo un condividete e almeno andiamo a contattare e a conoscere più persone per cui vi stavo dicendo ero rimasto alle guerre ero rimasto ai trapianti ai bambini che vengono tolti gli organi per essere venduti in Svizzera al maggior numero di pedofilia perché mi ero fermato perché su questo libro ci sono proprio i dati che di quanti italiani vanno a fare il mercato del sesso nelle in Thailandia e in altre in altri cinque paesi dove praticamente viene fatta la pedofilia su bambini di otto anni di sette anni vanno si comprano con i soldi questi bambini e fanno questo schifo per cui qua Dio sta chiedendo e veramente è un obrobio agli occhi di Dio inoltre pensate al traffico delle armi pensate al traffico di droga per cui l'oppio che viene le oliopiaci l'eroina l'hashish la marijuana è invaso il continente da questa situazione gli aborti che sono fatti in giro per il mondo i disastri naturali che abbiamo creato scompensando il clima facendo test nucleari sotto terra che l'abbiamo riempita e bombardata di esperimenti nucleari e capite che a questo punto non c'è più rimedio non c'è più rimedio se non interviene Dio Padre e come sta intervenendo Dio Padre mandando la Gospa mandando la madre mandando la regina della pace 36 anni che viene a dirci o capiamo o moriamo o capiamo o moriamo e siccome noi ancora oggi non riusciamo a capire lei continua a scendere e ci dice pregate 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 ritornate a Dio Satana è forte vuole distruggere le famiglie vuole distruggere la vostra pace non vuole che si prega nella famiglia nella famiglia dove ci sono due persone che pregano e vivono i sacramenti e cercano di vivere la grazia il demonio non può entrarci non può entrarci allora io vi voglio leggere questo punto sempre dal libro di Mario questo non è dai messaggi e di cosa ha detto proprio dalla bocca di Santa Madre Teresa di Calcutta ricevendo il premio Nobel dell'Alpace del 1979 dice sono stata sorpresa di vedere in occidente tanti ragazzi e ragazze darsi alle droghe e ho cercato di capire perché perché succede questo e la risposta è perché non hanno nessuno nella loro famiglia che li accolga padre e madre sono così occupati da non averne il tempo i genitori giovani sono in qualche ufficio e il figlio va in strada e rimane coinvolto in qualcosa stiamo parlando di pace queste sono che distruggono la pace ma io sento che il più grande distruttore dalla pace oggi è l'aborto perché è una guerra diretta un'uccisione diretta un omicidio commesso dalla madre stessa e leggiamo nelle scritture perché Dio le dice molto chiaramente anche se una madre dimenticasse il suo bambino io non ti dimenticherò ti ho inciso sul palmo della mano siamo incisi nel palmo della sua mano così vicini a lui che un bambino non nato è stato inciso nel palmo della mano di Dio e quello che mi colpisce di più è l'inizio di questa frase che persino se una madre potesse dimenticare qualcosa di impossibile ma persino se si potesse dimenticare io non ti dimenticherò e oggi il più grande mezzo il più grande distruttore della pace è l'aborto e noi che stiamo qui i nostri genitori ci hanno voluti non saremo qui se i nostri genitori non lo avessero fatto i nostri bambini li vogliamo li amiamo ma che cosa di milioni ma che cosa è di milioni di loro tante persone sono molto molto preoccupate per i bambini in India per i bambini in Africa dove tanti ne muoiono di malnutrizione fame e così via ma milioni muoiono deliberatamente per volere della madre e questo è ciò che è il grande distruttore della pace oggi perché se una madre può uccidere il proprio stesso bambino cosa mi impedisce di uccidere a te e a te di uccidere me nulla se una madre può uccidere il proprio stesso bambino cosa mi impedisce di uccidere te e a te di uccidere me rimbomba l'interrogativo di santa madre Teresa di Calcutta ora che davvero vengono ad ucciderci e noi non sappiamo neanche per quali valori dovremo combattere abituati come siamo a sopprimere persino i nostri figli nella cupia di solvi che ci ha invaso a cui se non rispondiamo con un recupero di lucidità dovremo innitabilmente la nostra definitiva capitolazione e uccisione o capiamo o moriamo quest'ultimo pezzo è di Mario e vi ultimo con il libro da ricordare i bambini abortiti in Italia dall'introduzione della legge 194 nel 1978 sono circa 6 milioni quelli abortiti ogni anno nel mondo sono 56 milioni secondo l'organizzazione mondiale della sanità Danimarca e Islanda sono vicini al risultato di uccidere il 100% dei bambini down nel grembo del materno e la Francia è a quota 96% e poi qua Mario mette anche il vario link da andare a vedere l'informazione perché sono tutte informazioni prese sono tutte informazioni prese estrapolate studiate allora adesso visto che ci sono tanti amici che si stanno collegando veramente amici del guerra 5 sarà 5 sassi Anna del guerra mi dice esatto i 5 sassi che ricontiamo sempre santo rosario la preghiera del cuore il digiuno a pane e acqua il mercoledì e venerdì la lettura della sacra scrittura la bibbia la parola di dio il sacramento della confessione la riconciliazione con dio e l'eucaristia poi vediamo Franci Terry mi dice tutto vero grazie Franci Giosebri saluto Gloria Calarelli Ninarello chi ha la mamma celeste non trema assolutamente Ninna Anna Russo la salutiamo vogliono portare l'aborto fino ai 9 mesi esatto questa è stata la proposta che ha fatto vincere Trump alle votazioni americane perché la Clinton con l'ultima sua uscita pensando di poter prendere ancora il demonio perché il demonio ti dà questa guarda che ti faccio vincere ma poi ti fa pagare lo sconto meno male che diciamo gran parte dei pro-life e della gente di buona volontà anche non serve essere pro-life quando si arriva a dire che si può uccidere il bambino fino al nono mese cioè prima di essere concepito e questo questa poi ci sono altre dinamiche che ha fatto vincere il presidente Trump Anna Russo la saluto buonasera Luca Molino che sta guardando bene allora adesso andiamo un attimino visto il consigliato come vi ho detto questi numeri sono dei numeri ma non angoscianti sono terrificanti se pensiamo all'Erode quando voleva uccidere Gesù che ha fatto quella strada degli innocenti pensate oggi come grida il sangue di questi bambini al cospetto di Dio ma è bello voglio vedere se riesco a trovarvelo perché è importante molto importante questo messaggio della Madonna che la Madonna ha dato e dice aspettate che ve lo dico subito ok nel messaggio del 2 febbraio del 99 messaggio del 2 perché guardate come continua la mamma a lavorare nello spazio tempo che non c'è lo spazio tempo i tempi di Dio signori non sono i tempi nostri noi abbiamo i tempi che calcoliamo e vediamo i tempi di Dio sono altri la Madonna il 2 febbraio del 99 dice milioni di bambini continuano a morire a causa dell'aborto la strage degli innocenti non è avvenuta soltanto dopo la nascita del mio figlio si ripete ancora oggi ogni giorno oggi ogni giorno e in un altro messaggio sempre sull'aborto ha detto l'aborto è un grave peccato dovete aiutare molto le donne che hanno abortito aiutate loro a capire che è un peccato invitatele a chiedere perdono a Dio e ad andare a confessarsi Dio è pronto a perdonare tutto poiché la sua misericordia è infinita cari figli siate aperti alla vita e proteggetela e capite che qua allora noi abbiamo un compito più che importante più che una chiamata quando ci dicono perché i cattolici devono mettersi in politica per questi motivi perché oggi ormai la barra del combattimento come abbiamo già visto è già parlato non è più destra e sinistra e lavori sindacali e di avere no oggi il piano inclinato sta proprio nelle discussioni parlamentari per cui in quei palazzi che decidono sta proprio su come nasci per cui eterologa come vivi no come muori e eutanasia se puoi vivere per cui diritto di abortire per legge una legge che è stata fatta anche da cattolici quando Leone VI diceva il fumo di Satana è entrata nella chiesa non intendeva che è entrata nella chiesa e nella parrocchia è entrata nella chiesa chi è la chiesa noi siamo la chiesa io sono chiesa tu sei chiesa i sacerdoti sono la chiesa la chiesa non è una struttura di muri e perché allora in quella maniera che noi dobbiamo prendere le armi e combattere la prima arma qual è? l'arma della preghiera infatti forse l'unico movimento politico in Italia che ha proprio un gruppo di preghiera al popolo della famiglia che sta a pregare per le intenzioni e per avere la luce dello spirito santo per poter portare avanti le politiche qua il primo grosso problema è la famiglia ci sono qua nel libro i dati istat della della di natività abbiamo 406 mila nati a fronte di 406 mila nati a fronte di 730 mila morti capisci che è un gap che non recuperiamo più e qual è il problema più grande della nazione italiana se non perdere la propria identità allora il popolo famiglia è nato per combattere questa battaglia la battaglia in primis della famiglia per cui famiglia uomo e donna l'educazione ai propri figli stiamo vedendo adesso a ripartire delle scuole noi abbiamo l'amico Filippo Savarese che sta girando in giro con il bus non fatemi ingannare se nasci maschio sei maschio se nasci femmina sei femmina e le opposizioni che sta trovando i dibattiti assurdi che potete vedere sulla rete per dire l'ovvio per dire che 2 più 2 fa 4 e che le foglie d'estate sono verdi e allora noi stiamo combattendo questo ma questa è solo la punta anzi la base del nostro combattimento politico perché poi tutto in base alla famiglia avviene con l'immigrazione siamo aperti all'immigrazione un'immigrazione controllata anzi siamo più in linea con quello che diceva Giovanni San Giovanni Paolo II Benedetto XVI e anche Papa Francesco è meglio che gli immigrati vengano aiutarti nel loro territorio per continuare a progredire se là noi con 2 euro possiamo aiutare e mantenere una persona perché dobbiamo mantenerla e aiutarla qua con 35 euro un conto è un rifugiato politico per cui scappa da una situazione drammatica che è in pericolo la sua vita perché sono paesi di guerra un altro conto è che io vado immigrazio per cui faccio l'immigrato perché ho visto alla televisione che in Italia è il paese della Bengodi della Cuccagna e ci troviamo oggi con un gap che è difficile da mantenere è difficile da governare gli altri paesi hanno chiuso e si sta adesso ritrattando il trattato di Schengel praticamente vediamo un attimino cosa verrà ma noi come popolo famiglia non siamo per mettere i carri armati al confine e sparare no siamo per un'accoglienza organizzata e dignitosa dignitosa per chi accogliamo e per noi che dobbiamo allora oggi Minniti Mirko oggi pomeriggio ha fatto la sua puntata del Mirko risponde proprio sulla proposta del ministro Minniti che chi entra deve imparare la lingua deve rispettare le nostre regole ok ma sempre oggi dobbiamo accogliere i rifugiati perché siccome diciamo questo problema enorme dell'immigrazione dei popoli che sta avvenendo in tutto il mondo per guerre per cataclismi naturali per situazioni di povertà questa è un'emergenza che noi ci porteremo ancora avanti 30, 40, 50 anni se il mondo esisterà ancora perché c'è sempre il pazzo della Corea che in un attimo può far saltare tutti gli equilibri mondiali per cui in un secondo in un nanosecondo possono cambiare tutti gli equilibri mondiali del paese ma se dovesse invece andare avanti con la logica perché noi popolo la famiglia dobbiamo riuscire a mettere i nostri uomini all'interno del Parlamento perché ci sono delle opzioni c'è la possibilità di fermare c'è la possibilità di fermare in piazza non basta più e non serve neanche la diaspora in mezzo ai partiti perché con chi andiamo con la Lega che vuole aprire le case chiuse e fare il papponaggio di Stada con la Meloni che va bene si inciucia con qualcuno ogni tanto e fanno poi l'alleanza con Berlusconi capite che ormai è tutta la deriva noi dobbiamo essere quel sale quel granellino di sale che ridà fiducia al popolo italiano il popolo italiano è un popolo bello ma purtroppo ormai ormai dico da quando ha messo Dio fuori noi guardiamo un attimino l'inizio della prima repubblica dell'inizio della repubblica quando c'era gente i fondatori della democrazia cristiana Don Luigi Sturzo i personaggi altamente non politici ma che guardavano al futuro delle prossime generazioni che guardavano al futuro dell'Italia hanno portato il paese oggi stiamo attraversando una crisi planetaria ma perché perché sono entrati i poteri forti i poteri economici mammona Dio mammona il potere economico a livello mondiale è in mano alle banche è in mano alle multinazionali e allora stiamo vedendo il problema dei vaccini ma non mi addendo perché tanto ormai queste cose le sentiamo e risentiamo le case farmaceutiche quanto guadagnano quanto guadagnano perché non trovano i vaccini ad esempio sulla malattia di un diabete o di una malattia dell'HIV siamo arrivati fino alla fine abbiamo sconfitto l'AIDS è diventata una malattia cronica che curare un malato di HIV ti costa circa 2000 euro al mese non si riesce a fare il passaggio ulteriore e no e no e se no altrimenti qual è la situazione e quella è una cosa per cui lobby delle armi lobby farmaceutiche e noi qua abbiamo forte la lobby LGBT lesbiche gay transgender bisex che vogliono iniettare questo germe ai bambini per annullare l'ultima parte della creazione per cui avete visto nei messaggi della madonna della gospa come dice che satana sta lavorando e guardiamo il quadro guardiamolo con gli occhi sempre con gli occhi dello spirito santo e della luce aborti abbiamo detto per cui non ti fa nascere più bambini famiglia divorzio breve ormai tempo due giorni divorzi non ti sposi più per cui unioni omosessuali ciao Anna che ci saluta si va a cena buona cena marito donna donna si uniscono uomo uomo si uniscono non fanno figli vanno a prendere vanno a prendere e a comprare con milioni con soldi con 30 con 80 90 mila euro un bambino di un grembo e in ultimo questo questo come ha detto suor Lucia al compianto cardinal Caffarra che l'ultima battaglia finale sarà sulla famiglia e chiunque difenderà la famiglia sarà perseguitato allora il gender il gender che dicono non esiste il gender non esiste non è noi che siamo gli addetti ai lavori che stiamo ormai parlando di queste cose da un po' di tempo e vediamo come vengono fermati lo sviluppo di un bambino con un farmaco che costa 2000 euro e ti ferma lo sviluppo e ti fa crescere e non ti fa sviluppare la voce la peluria nella bambina ferma il ciclo mestruale la crescita del seno perché c'è l'interesse poi dicono almeno non diventa l'intervento troppo invasivo ma tu hai permesso a questa cultura di entrare nelle scuole di parlare con i bambini e fargli il lavaggio del cervello che loro non sono quello che sono perché sono maschi e hanno il pisellino loro sono quello che si sentono e lì è la fine Flaminia Longobar Dio è dentro l'uomo l'uomo può rifiutarlo può combatterlo per una vita intera può non accettare questa verità ma prima o poi dovrà rendersi e cercare in lui la risposta e tutte le sue domande esistenziali è vero il bene e il male è intrinseco dentro di noi e quando mi dicono ah ma magari non si accorgono di fare male no è impossibile perché chiunque abbia un pizzico di coscienza un pizzico di testa cioè che non è folle sa benissimo cosa è bene e sa benissimo cosa è male ma fin da bambino fin da bambino quando un bambino rompe un qualcosa e lo nasconde perché ha paura perché sa che ha fatto un danno ed è una cosa piccola vi sto parlando ma l'uomo di oggi non vi credete che chi è che prende la bustarella da 100.000 euro perché gli hanno bonificato il terreno lo sa che sta facendo un malaffare chi è che traffica con la droga lo sa che sta facendo un malaffare chi è che compra i voti dai mafiosi lo sa che sta facendo un malaffare come sa benissimo madre Teresa di Calcutta che ha dato la sua vita sapendo che era bene sapendo che il bene noi dobbiamo fare il bene il bene della famiglia il bene della nostra generazione il bene dei nostri figli il bene dei nostri nipoti il bene della nostra patria dobbiamo ritornare a innamorarci a innamorarci della nostra nazione dobbiamo rinnamorarci della sfera della politica a livello alto e non è semplice perché ormai dopo 30 anni di disgusto la gente si è disgustata lo sapete che il più grande il più forte partito italiano è il partito dell'astensionismo questo partito se andrebbe il Parlamento avrebbe il 50% cosa che oggi nessun movimento politico riesce ad arrivare ma questo perché perché la politica è stata fatta in una maniera sporca ed è ora di ripulirla come piano piano con la preghiera sicuramente mettendoci delle persone stanno cambiando i tempi abbiamo visto in Germania le votazioni 90 deputati sono entrati al Parlamento per la prima volta è così è così allora io adesso ho ancora un po' di minuti intanto ringrazio chi è che mi ha seguito fino adesso di condividere se potete e poi volevo dire per l'appunto ci sono le varie tappe dell'Hocom Turm per cui di Mario del nostro presidente Mario Adinolfi che inizia inizia a girare domani sarà la prima tappa ve lo faccio vedere qua capiamo o moriamo di Mario Adinolfi è un libro che è veramente bello scorre in una velocità per cui se lo volete acquistare potete acquistarlo su Amazon potete acquistarlo sul sul sito del www lacroce quotidiana punto it c'è il modo di acquistarlo e potete anche acquistarlo quando fa le presentazioni in giro è un libro molto importante specialmente per noi attivisti ma per tutti non per noi attivisti per tutti quanti perché è pieno di informazioni di dati di dati e numeri per cui i numeri sono quelli che parlano e ti spiega perché o capiamo o moriamo per cui vi dico le tappe le due tappe che ci sono diciamo subito in in sequenza e domani il 28 settembre in via Calamide 55 a Casal Polacco e lì ci sarà Mario che presidenterà il suo libro o capiamo o moriamo e ci sarà anche la raccolta firma per il decimo municipio di Ostia dintorni con il presidente Giovanni Fiori poi sarà il turno di sabato a Modugno in provincia di Bari in via padre Annibale Maria di Francia numero 4 e poi do alcune informazioni noi ad esempio il 14 ottobre avremo Suore Manuel da Međugorje stiamo mandandolo a Locandina se qualcuno vuole qualche informazione mi può scrivere sul mio privato via Cumiana dalle Suore di Maria Mazzarello è un istituto di Suore Maria Mazzarello via Cumiana a Torino il 14 ottobre ci sarà Suore Manuel e il 29 ottobre ci sarà a Torino proprio Mario Adinolfi a presentare o capiamo moriamo sì abbiamo fatto questo invito a Mario di venire a presentare il suo libro anche qui a Torino ed è la prima data poi logicamente se ne seguiranno altre perché questo libro ha bisogno di essere presentato è fatto entrare più possibile nelle case le persone se sono informate noi il nostro compito ragazzi ve lo dico del popolo della famiglia è informare informare fare aprire gli occhi alle persone che non sanno perché l'80% di queste persone è annebbiata dalla secolarizzazione è annebbiata dal pensiero unico siamo ormai tutti rimbambiti dobbiamo pensare che ci dobbiamo svegliare allora come dice Mario dice o capiamo o moriamo o come io immetto molto più in alto la madonna che è da 36 anni che ci dite che ci dice o convertitevi 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 tornate a Dio senza Dio non potete fare nulla e allora noi stiamo vedendo e come ha detto il suo Lucia il carriano Caffarra che chi l'attacco sulle famiglie e chi difenderà le famiglie sarà perseguitato ve lo posso garantire testimonianza mia personale e di mia moglie Angela Cicconte siamo perseguitati ma con la gioia nel cuore pronti a offrire ogni insulto pronti ad offrire ogni ingiuria pronti a offrire tutto quanto per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime altro a noi non interessa altro a noi non interessa siamo in questa battaglia e per cui veramente chiediamo a Dio e alla sua Santissima Madre per intercessione di aiutarci in questa battaglia che non è una battaglia come dice San Paolo di uomini ma è una battaglia contro lo Spirito Santo non contro con lo Spirito Santo scusate c'è il cornuto mette anche delle parole voi dovete vedere la finezza che ha il demonio di far credere le cose far uscire delle volte delle parole che ti insinuano e ti cambiano il concetto guardate che è fine poi vi faremo una puntata magari con l'analisa Colzi che parla molto bene che abbiamo fatto da Medjugorje su come lavora che io ne so molto perché ho vissuto con delle esperienze con dei padri che facevano esorcismi ma andare più dentro per capire come il cornuto lavora per cui noi chiediamo veramente allo Spirito Santo di starci a fianco e voglio chiudere questa trasmissione bellissima e poi passare il testimone a Danilo Leonardi che con la sua rubrica dentro i fatti sarà per l'appunto dopo di noi dalle 20 alle 21 molto bello non perdetelo e diffondetelo anche io vi saluto adesso con il messaggio proprio dell'altro ieri del messaggio tanti amici che saluto per cui buona diretta da Ravenna Marcello Faustino Giuliana Molinari Cecilia alla libreria di stazioni Termini lo trovo dovrebbe arrivare in tante librerie però ti conviene che magari lo prendi su Amazon in un giorno ti arriva se lo dice Mario che il Parlamento l'ha vissuto c'è veramente da combattere al fianco di Gesù e Maria è vero Celestino e commiso Dio vi benedica io vi voglio salutare e poi vi daremo altre informazioni man mano che ci vedremo nelle prossime puntate e presto ci vediamo in giro cari ragazzi perché vi posso già anticipare che la prossima settimana sono a Međugorje e pregherò per tutti voi poi iniziamo il 6 con andare in giro con l'avvocato Gianfranco Amato non come autista ma come dirigente del popolo della famiglia a fianco all'avvocato Gianfranco Amato e facendogli da ombra facendogli da amico da fratello ed autista anche ma con onore proprio perché è un uomo che ha bisogno di un supporto di un amico per cui sappiate che gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date adesso io vi leggo il messaggio del 25 settembre del 2017 cari figli oggi vi invito ad essere generosi nella rinuncia nel digiuno e nella preghiera per tutti coloro che sono nella prova e sono vostri fratelli e sorelle in modo particolare vi chiedo di pregare per i sacerdoti e tutti i consacrati affinché con più ardore amino Gesù affinché lo spirito santo riempia i loro cuori con la gioia affinché che testimonino il cielo e i misteri celesti molte anime sono nel peccato perché non ci sono coloro che si sacrificano e pregano per la loro conversione io sono con voi e prego per voi perché i vostri cuori siano riempiti di gioia grazie per aver risposto alla mia chiamata ho ancora un minuto e vi voglio dire solo quanta attinenza c'è con il messaggio di Fatima fratelli e sorelle in modo particolare no Gesù a pregate con più ardore Gesù affinché lo spirito santo riempie affinché testimonino il cielo e i misteri celesti molte anime sono nel peccato perché non ci sono coloro che si sacrificano e pregano per la loro conversione questo è il messaggio di Fatima a suor Lucia buonasera e vi ringrazio a tutti avanti così e sia lodato Gesù Cristo grazie buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti